Siete un branco di pecore, non siete dei soldati, avanti ordine Plutone, diamo forza, più veloci, rapidi, attiti, risso, attiti, i salati di risso, basta, continua il vostro addestramento oggi e vi voglio riattivi incisivi, tu, mi frega se, in guerra ucciderai un nemico? Sì signore, io ucciderò il nemico, là, e tu, ucciderai un nemico? Signor, sì, ucciderò un nemico, là, tu, ucciderai un nemico? Sì signore, ucciderai un nemico, là, Santis, e tu, ucciderai un nemico? Comandà, ma mi si vede, mi hai visto, io ne ucciderò due, oh, bravo Santis, finalmente, così ti voglio, ho deciso, fai, comandante, che c'è? Scusi, come lui ne uccide due, io posso a casa, Stefano, Stefano, basta, la mula, la mula, se un nemico in guerra ti prendi alle spalle, tu, come ti difendi? E chi si difende? E mica se lo passa? La mula, che succede? I nemici, i nemici, vado, 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 comandante, 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 i nemici sono alle porte, è successo una tragedia. Che cus è successo? Hanno detto, o le donne si fanno violentare tutte, oppure, oppure, uccideranno i prigionieri, oh, mi odio, mamma mia, comandante, ho deciso, che cus? Mi sacrificherò per la patria, corro a farmi violentare, brava, aspetta, 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 Stefano, dove vai? Comandante, la web, la web!